Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Maglia Stories Stiamo andando al castello di Kratara, al castello di Kratara Grazie a tutti Galeotto fu il libro e chi lo squisse Ebbene Gianciotto, fu poco con E' la versione più breve, più bella, intensa che io abbia mai sentito No, questa è la versione No, noi siamo brevi e circoncisi Vi spiego il percorso Entrando qui a sinistra c'è la prima sala Che è la sala della tortura Per partire proprio in bellezza Poi si sale la scala E così raggiungerete il primo piano Dopodiché il percorso è obbligato, molto semplice E tornerete di nuovo qui nel cortile In fondo, in fondo Sulla porticina a sinistra C'è la cartella privata Poi invece da questa parte a sinistra Corpo di guardia e poi l'uscita Quindi si esce, non da dove siete entrati Ma come avete visto che hanno fatto i signori Da quella parte là Buona visita Grazie Accomodatevi signori Grazie a tutti 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 Il questo castello è bellissimo Di bianchesco Fisca c'è la libreria Nella dentro il castello Una volta appunto Il giro subito c'era la galleria Dove vendevano tutti quanti libri Però libri diversi Con varie storie Però sempre Di Paolo e Francesca E appena ho visto che sono preso Il giro subito c'era la galleria